Sant'Agostino di Ippona, Vescovo e Dottore della Chiesa. Agostino è un santo così familiare e attuale che sembra appartenere al nostro tempo. Egli fu invece un uomo del IV secolo e la sua vita trascorse quasi interamente in Africa. La diocese africana aveva come importante punto di riferimento Cartagine. Essa era il cuore dell'Africa romana. In un piccolo centro di questa provincia, Tagaste, Agostino nacque il 13 novembre 354. La famiglia apparteneva alla classe media, di stirpe africana ma di lingua e cultura romana. Monica, la madre, era cristiana e manifestava doti di bontà e discrezione, dolcezza ed equilibrio. Il padre, Patrizio, membro del Consiglio Comunale, era tollerante all'educazione cristiana dei figli, per quanto fosse pagano. Molto incline allo studio, Agostino si reca a Cartagine per compiere gli studi di retorica. Qui incontra una donna della quale si innamora e con lei convive 14 anni. Avranno anche un figlio. Dopo una serie di vicissitudini, tra cui una grave malattia, Agostino si reca a Milano e qui incontra il vescovo Ambrogio. Ascoltandolo, in lui si accende una luce. Avviene la conversione, tanto sospirata dalla madre Monica, che per lui non smetteva mai di pregare, nella speranza di essere esaudita. Nel 387 riceve il battesimo e nel 391 viene ordinato sacerdote. Nel 397 verrà eletto vescovo di Ippona. Da quel momento inizia una lunga ed intensa attività pastorale, volta innanzitutto a mettere al riparo i deboli nella roccaforte della fede e a combattere per essa con tutte le forze della ragione. Il compito di generare, nutrire, difendere e fortificare la fede è infatti quello che lo impegna su più fronti e che più assiduamente sollecita da lui studio ed elaborazione dottrinale. Nonostante i numerosi impegni, Agostino riesce a mettere mano anche ad alcune grandi costruzioni teologiche, esegetiche e spirituali. Ricordiamo le sue opere maggiori, le confessioni, la Trinità e la città di Dio. Fino all'ultimo Agostino si spende per il bene della Chiesa e dei fratelli. La malattia che lo condurrà alla morte lo assale nel terzo mese dell'assedio di Ippona da parte dei vangali di Genserico. Muore il 28 agosto 430 all'età di 76 anni. La conversione di Sant'Agostino è una fulgita testimonianza di come l'amore di Dio può trasformare le persone. Sappiamo che da Lui nascerà l'ordine degli Agostiniani e delle Agostiniane che si ispireranno ai Suoi scritti ed al Suo modo di vivere. Il Signore vi dia pace. Grazie. 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 Grazie.